La provincia di Asti sembra aver trovato una possibile soluzione per fronteggiare la crisi occupazionale. Si tratta di un servizio che da due anni opera sul territorio. Ello Sportello crea la tua impresa, che negli ultimi due anni ha avuto oltre 900 contatti e ha aiutato un centinaio di persone a diventare imprenditori. Se ne è discusso nel corso di un convegno organizzato in provincia con il contributo programmatico della Regione Piemonte e il finanziamento del Fondo Sociale Europeo. Questo è un tentativo da parte dell'ente pubblico di favorire chi, avendo o difficoltà di lavoro o volendo per sua iniziativa personale intraprendere una nuova attività, segue un percorso di tutela e di monitoraggio dello stesso. Chi fosse interessato proprio ad avviare un'attività, che cosa deve fare? Deve fare una cosa molto semplice, venire presso gli uffici dello Sportello di Creazione d'Impresa, illustrare il proprio progetto, illustrare naturalmente l'attività che si vuole intraprendere e insieme con le persone che sono all'interno dell'ufficio avviare questo percorso. Lo Sportello provinciale ha aiutato centinaia di nuovi imprenditori negli ultimi due anni. Le aziende nate hanno fatto registrare un bassissimo tasso di mortalità. Un esempio è l'impresa creata da Paolo Verga, che fa manutenzione sugli aerei ultraleggeri. La voglia di aprire un'impresa mia è iniziata ad esserci tre anni fa, proprio perché come dipendente non mi sentivo ancora realizzato a pieno. La sede ce l'ho adesso a Vigliano d'Asti, lavoro sui vari campi volo in Piemonte e non solo perché mi chiamano anche in Toscana, in Liguria e quindi in Val d'Aosta. Ho cominciato ad allargare proprio il mio progetto e mi occupo appunto di manutenzione di aerei ultraleggeri.